Benvenuti in Veneto Globe Radio Conegliano, Carmen Morandin vi auguro una buona giornata. Oggi per la rubrica incontro con parleremo di animali. Abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi il signor Adriano De Stefano, presidente EMPA, sezione Treviso. Buongiorno signor De Stefano. Buongiorno a voi e a tutti gli spettatori. Ci racconti un po', che cos'è l'EMPA? Allora l'EMPA è l'acronimo dell'Ente Nazionale Protezione Animali. È un'associazione che arriva da molto lontano, per l'esattezza del 1871, quando un certo Giuseppe Garibaldi, commosso dalla situazione in cui gli animali versavano a quei tempi, decise di fondare un'associazione per la loro protezione e tutela. Quindi da allora ad oggi l'EMPA ha attraversato le varie aeree della nostra società per arrivare fino a noi ed è arrivata anche a Treviso nel 2004 con la sezione di Treviso alla quale io presiedo. Ce ne sono naturalmente diverse in Italia, è un'associazione di carattere nazionale per cui noi gestiamo come EMPA nazionale almeno 130 sezioni in tutto il territorio nazionale. Quella di Treviso ha poco più di 10 anni, è tra le ultime nate ma è anche molto ben qualificata all'interno dell'intero organico dell'EMPA nazionale. Mi dico una cosa signor De Stefano, che territorio copre l'EMPA Treviso? Perché so che raggruppa molti comuni. Eh ahimè raggruppa l'intera provincia, quindi abbiamo tutti i comuni della provincia di Treviso perché la competenza nostra è a livello provinciale. Dico ahimè perché purtroppo chi si occupa di questo settore in particolare non è che vive come essere in vacanza, è un aspetto abbastanza triste e laborioso. Però noi lo facciamo naturalmente molto volentieri. Qual è il contributo sociale? Cosa fate? Affidi? Poi so che avete parecchie iniziative con il carcere minorile. Sì, noi ci occupiamo naturalmente di animali in maniera particolare, però abbiamo aperto degli spazi anche, diciamo così, a un'attività sociale, per cui diamo la possibilità a diverse realtà esterne di poter frequentare le nostre strutture per, diciamo, varie tematiche di recuperi comportamentali. Quindi lavoriamo anche con i servizi sociali del Comune di Conegliano, abbiamo finito da poco concorso di, tra virgolette, addestramento con i nostri cani al carcere minorile di Treviso e poi ci occupiamo anche di, come direi, di servizi socialmente utili per cui anche con la magistratura di Treviso stiamo lavorando per dare la possibilità alle cosiddette condanne, tra virgolette, un po' alternative quindi ai condannati di frequentare le nostre strutture piuttosto che altro. Quindi anche sul sociale la nostra associazione si sta, come dire, si sta assestando direi assolutamente bene. So che da un po' di tempo gestite anche il rifugio di Ponzano. Sì, il rifugio di Ponzano è una struttura molto grande, anzi direi per la verità che prima del 2006 era l'unica dell'intera provincia e attualmente noi la gestiamo da gennaio del 2014, quindi dall'anno scorso e la struttura di Ponzano occupa e si fa carico dei cani ritrovati, naturalmente senza proprietario, quindi dei cani abbandonati di tutti i comuni della ULS 8 e la maggioranza dei comuni della ULS 9. Attualmente abbiamo circa un centinaio di cani, naturalmente tutti in cerca di famiglia ovviamente e contiamo anzi anche di diminuirne il numero se è con la collaborazione di comuni, se fanno un po' i virtuosi potremmo anche, tra virgolette, rischiare di chiuderlo. Più o meno, quanti animali sono oggi in attesa di adozione? Un centinaio, dicevo Ponzano, però naturalmente non è l'unica struttura. Ma ci sono anche i gatti? Esattamente, non è appunto l'unica struttura che abbiamo, abbiamo poi un qualcosina molto più piccolino qui vicino a Conegliano a Santa Lucia con circa una decina di cani anche lì in attesa di adozione e poi un gattile a Conegliano che dà numeri da capogiro, noi in gattile facciamo entrare e uscire e quindi che affidiamo nell'arco di un anno una media di 500 gatti. Accidenti. Se io volessi adottare un animale, a chi mi devo rivolgere? Allora, se gatti naturalmente all'empa, se cani ci si può rivolgere direttamente alle strutture. In provincia di Triviso, ripeto, ce ne sono, c'è la nostra, quella di Ponzano, quindi basta chiamare Ponzano. C'è anche la struttura che copre i comuni della ULS 7, che è quella di Cison, il Borgo Chiaro, la pressione Borgo Chiaro di Cison. Però fondamentalmente, siccome sono tutte collegate, noi per certi aspetti abbiamo un po' la situazione di tutte, basterebbe entrare nel nostro sito www.impatreviso.it e lì si sceglie se pagina cani o pagina gatti, lì ci sono le schede di tutte le possibili adozioni che colui che si appresta a farlo vorrebbe, quindi può decidere per taglia, per età, per colore, come vuole, è una specie di supermercato per cui si vedono tutti i prodotti www.impatreviso.it Quali sono gli obblighi per chi adotta un animale, non so, vaccini, registrazioni, eccetera? Allora, gli obblighi, ce ne sono alcuni di legge, alcuni determinate dal buon comportamento. L'obbligo di legge per i cani è assolutamente che l'animale sia microcippato. In ogni caso, gli animali che vediamo noi lo sono tutti per regola, perché ci arrivano dall'ULS, quindi è gioco forza. Però potrebbe essere che qualcuno magari si fa dare un cucciolo da un amico, un qualcosa, o un ambiente, diciamo, non convenzionale, per cui si trova a dover gestire un cane ex novo. Quindi il cane va assolutamente cippato, quindi iscritto all'anagrafe canina, dai due mesi in su, cioè l'obbligo di legge. E poi ci sono tutti quegli accorgimenti, quelle dotazioni che l'animale dovrebbe avere nel corso della sua vita. Quindi fondamentalmente le vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie anche molto importanti e le fasi di, chiamiamole così, un po' più sottili, che sono le sferminazioni che si devono fare almeno una volta all'anno. Poi trattamenti antiparassitari, ma diciamo quelle sono piccole cose che rientrano nella routine. Ascolti, vedo parecchi anziani che hanno un animaletto che portano a spasso magari al mattino così. Che costo può avere avere un cagnolino di media taglia? Oddio, dipende da cosa intendiamo per gestire un animale. Se gestito bene, quindi con i vaccini periodici, con i trattamenti sanitari, quindi la risaminazione, tutte queste cose qua, un'alimentazione che sia corretta, quindi senza dare necessariamente gli avanzi di casa che squilibrano assolutamente una dieta. Direi che potremmo andare dai 100 ai 200-300 euro, a seconda della taglia del cane. Ovviamente un cagnetto che pesa 4 kg è diverso da un alano che pesa 35-40 kg. Quindi ovviamente, diciamo che i trattamenti fondamentalmente valgono in termini economici la stessa cosa. Indubbiamente la differenza è tutta sul cibo, ovvio. Ok. Sento una cosa, se alle volte sarà capitato a tutti noi, capita di vedere degli animali per strada che possono sembrare animali smariti, abbandonati. Cosa dobbiamo fare? A chi ci possiamo rivolgere per aiutare questo animale? Se in realtà è smarito, se... Allora, la prima cosa da fare è controllare se l'animale ha una medaglietta al collo. Quindi noi suggeriamo a tutti i possessori dell'animale di mettergli un collarino con un numero di telefono. Perché questa situazione, se l'animale è tranquillo, quindi si fa avvicinare, parliamo di cani ovviamente, fondamentalmente, ma si potrebbe fare anche per i gatti, se questi animali hanno un identificativo di riconoscimento, giustamente chi li trova fa un attimo una telefonata e presumibilmente... A chi fa la telefonata? La telefonata è il numero che c'è sulla medaglietta del collarino. Ah, ho capito, sì. Qualora, purtroppo, al più delle volte questo accade, che non ci sono collarini, il problema diventa di identificare il proprietario di quell'animale. Quindi, come si opera? Se l'animale si fa avvicinare, lo si può avvicinare tranquillamente e si chiama... adesso vi dico cosa... Diversamente, se l'animale non si fa avvicinare, sarebbe importante circoscriverlo in un'area definita. Quindi magari farlo entrare nel giardino di un'abitazione, piuttosto che, non so, in un garage o in qualcosa di chiuso. Perché in questo caso, quindi, andremo ad avvisare o la Polizia Municipale o il 118, il 118 è il servizio sanitario che a sua volta vi dirotterà presso il servizio veterinario competente per quel comune. Quindi il 118 si attiverà, quindi o attivato dalla Polizia Municipale o attivato da se stesso, per cui uscirà il mezzo dell'Ulss per il recupero dell'animale. Ovviamente, se l'animale è vagante in strada, generalmente l'Ulss non esce, perché dalla telefonata all'ora arriva, chissà dove è finito l'animale. E il più delle volte il problema è proprio che non riesci a metterlo da qualche parte, in qualche giardino, come direi, perché di solito dove si trovano? In campagna, quindi o dove non c'è recensione o dove se c'è la recensione il proprietario non ti fa entrare un cane. E quindi il problema è abbastanza... È vero quello che dice lei che intanto che le persone addette arrivano il cane cammina e non si trova più. Però, non lo so, bisognerebbe... Questo è un problema. Diciamo che a volte qualche accorgimento potrebbe aiutare, per esempio, a fornire del cibo abbastanza appetitoso. Non so se uno in casa ha una scatoletta di qualcosa, piuttosto che un Wurstel. Potrebbe essere in altre circostanze, per cui uno è a passeggio col suo cane e l'altro cane, quello abbandonato, segue il mio, per cui lo trascino di... Però non sempre è possibile e purtroppo dopo si fa quello che si può. Quindi, mi faccia capire, se troviamo un animale anche abbastanza, non so, un pastore tedesco, piuttosto che quindi di una certa mole, e non riusciamo assolutamente a bloccarlo, cosa possiamo fare? Lo lasciamo a se stesso? Segnaliamo comunque? Certo. La segnalazione, dal mio punto di vista, va comunque fatta, perché se l'animale non si sposta, nel senso che lo si nota che sta scappando, diciamo che lì in zona dovrebbe rimanere, quindi in linea teorica, considerando anche che potrebbe rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica, perché non tutti i cani poi sono tranquilli, direi che, ed è accaduto, può tranquillamente uscire l'Ulss, e se la segnalazione si riferisce proprio ad un cane anche aggressivo o pericoloso, può usare anche l'anestetico per la cattura. Quindi, in ogni caso, direi assolutamente... Vuole ripetere i numeri a cui ci dobbiamo rivolgere? Allora, la Polizia Municipale, se avete sotto mano il numero, ma immagino che pochissimi di noi hanno il numero dei propri vigili, ma sicuramente il 118 è il classico numero che ci ricordiamo tutti, quindi al 118 gli si chiede, guardi, sono in presenza di un cane abbandonato, mi trovo in comune di Corneliano, mi parci il servizio veterinario competente. È un 24 ore, quindi la reperibilità del veterinario c'è sempre, quindi a questo punto vi gireranno la chiamata veterinario e spiegherete la situazione veterinaria. Può essere interessante fare una foto all'animale, che magari se il proprietario lo sta cercando, inviarla da qualche parte? Sì, diciamo che in linea teorica, se l'animale viene catturato dal servizio sanitario, poi conferisce presso il canile sanitario, per cui se ha il chip il proprietario sarà avvisato e quindi ovviamente andrà a prenderso. Se non ha il chip lo terranno lì 10 giorni in osservazione con la cippatura obbligatoria, gli faranno i vaccini, le visite del caso e dopo 10 giorni viene conferito presso la struttura con il quale il comune dove è stato ritrovato è convenzionato. Quindi potrebbe finire a Cison oppure al nostro rifugio. In quel caso se qualcuno lo ha perso, tranquillamente basta che chiami o il sanitario, perché per i primi 10 giorni rimane lì e quindi se lo può andare a prendere, basta che gli dia le caratteristiche del cane, bassottino, bianco e nero, eccetera, oppure se tarda un po', dopo 10 giorni può venire da noi. Ripeto che il venire da noi significa anche entrare nel famoso sito che vi dicevo prima, per cui mano a mano che i cani entrano nella mia struttura e io le inserisco nel sito web. Quindi la foto del cane dopo 10 giorni è già in rete. Sì, ho visto che tra l'altro c'è anche un sito interessante dove chi ha smarito l'animale verifica se ci sono le foto del suo animale, che è abbastanza interessante. Non so se è gestito da voi o cosa. Comunque... Ce n'è più di uno in verità. Dopo resta da capire se sono a Catania, piuttosto a Camigliano, Greco... Eh, non sarebbe da fare zonale, credo, perché sennò poi sono troppi quelli smariti. E se invece pensiamo che un animale venga trattato dai suoi proprietari, cosa possiamo fare? Allora, di fronte al maltrattamento le scelte sono molteplici. Quindi si tratta di capire se è un maltrattamento attivo o se è un maltrattamento passivo. Distinguiamo il maltrattamento attivo, significa, per fare un esempio, che lo sto picchiando. Il maltrattamento passivo significa che sto lesinando su alcune cose, sui farmaci se il cane è ammalato, sul cibo se il cane è molto magro, sulle condizioni igieniche di dove il cane si trova, quindi eccesso di sporco, di fece e quant'altro. Quindi in un caso o nell'altro comunque il cane lo consideriamo maltrattato, per cui in linea teorica noi dovremmo rivolgersi alla Polizia Municipale, la quale a fronte di un regolamento comunale che purtroppo non tutti i comuni ce l'hanno, è una dotazione molto optional quella di un regolamento, dico purtroppo, e quindi la Polizia Municipale dovrebbe in relazione al regolamento poi intervenire. Qualora il maltrattamento sia evidente, naturalmente ricordo a tutti i telespettatori che il reato di maltrattamento è un reato perseguibile d'ufficio, quindi è un reato penale perseguibile d'ufficio. Significa che io nel momento in cui lo rendo noto a un agente in pubblica sicurezza, questo signore deve d'ufficio andare avanti con le indagini, quindi non è proprio dire mi mandi un fax, mi mandi una carta, mi mandi una mail, basta una telefonata, naturalmente non anonima, ovvio, per cui l'autorità deve assolutamente muoversi. Nel qual caso si faranno le indagini, potrebbe scattare il sequestro dell'animale, in ogni caso il responsabile del reato pagherà le conseguenze di quello che ha fatto. E ho visto in campagna parecchi cani legati alla catena, sbaglio o c'è una normativa che vieta la detenzione, diciamo, a catena dell'animale? Sì, allora, da giugno dell'anno scorso, la Regione Veneto, dopo la Regione Emilia-Romagna, si è dotata finalmente di questa norma, per cui considerando i tempi di adeguamento e tutto quello che gli va dietro a un stampa radam delle classiche leggi all'italiana, diciamo che è entrata in vigore in maniera ufficiale il 9 gennaio di quest'anno. Quindi dal 9 gennaio di quest'anno sul territorio della Regione Veneto detenere cani a catena è proibito, per cui è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Quindi il segnalante, che naturalmente, torniamo al discorso di prima, lo farò presente alla posizione municipale, piuttosto che al veterinario dell'Ulss, costui non può ignorare che il cane è a catena, quindi devi sanzionare il proprietario. Devi sanzionare il proprietario, ripeto, sono 100 euro. Per la verità, se poi la cosa è fatta anche in buona fede, non è che, ma in ogni caso, il cane a catena non ci deve restare più. Quindi come minimo un recinto sufficientemente grande, noi consigliamo almeno 20 metri quadri, per detenerlo, dando per scontato che la condizione migliore per tenere il cane è quello di tenerlo assieme alla famiglia, quale componente della stessa. Ripeto, anzi ripeto, non l'ho detto, ma lo sto ripetendo all'infinito. La guardia a cui molti cani, specie quella catena, sono destinati, in realtà è un palliativo che fa solamente danni alla famiglia e al cane. Perché se un malintenzionato ha preso la decisione di venirvi a rubare in casa, la prima vittima sarà il cane, e poi voi. Quindi viceversa, se il cane è in casa, state pur certi che vi segnalerà l'intruso ancora prima che possa toccare la maniglia della porta. Cosa sono le guardie ezofile dell'EMPA? Allora, le guardie ezofile dell'EMPA sono delle figure all'interno dell'associazione che hanno l'autorità, anche se non dappertutto, perché qui siamo in Italia, e quindi i distingo sono, come dire, doverosi, che hanno la funzione di agente di polizia giudiziaria, per cui possono intervenire per i casi che accennavamo prima di maltrattamento o quant'altro, con la stessa autorità della Polizia Municipale, piuttosto che dei carabinieri o quant'altro. Noi stiamo organizzandoci per avere anche noi le nostre, che sono previsti dei corsi di formazione, perché è una cosa molto delicata. Vabbè, vorrei dire che troveremo un modo di parlarne in futuro. Ah, beh, questa volentieri. Quando lei sarà ancora. Volentieri. Quindi, diciamo, per concludere, iniziative prossime e future dell'EMPA? Treviso, ovviamente. Allora, le iniziative, io ve le riassumo più o meno tutte quelle che facciamo con le diverse tempistiche. Quindi noi facciamo due feste del Bastardino, una a Treviso in primavera e una a Conegliano a settembre, in occasione dell'Expo. Facciamo una rappresentazione di beneficenza al Teatro Accademia una volta all'anno, generalmente fine inverno, inizio primavera, e poi una cena o pranzo, no, cena, dai, perché pranzo non ce la facciamo ancora, di beneficenza, una, due all'anno, a seconda della disponibilità dei nostri volontari per farlo. Quindi queste sono occasioni per cui noi ci presentiamo, affidiamo animali e naturalmente raccogliamo i fondi indispensabili per poter gestire la nostra attività. Bene, signor De Stefano, è stato un piacere averla qua. Noi la ringraziamo e speriamo di averla ancora nei nostri studi per parlare dei nostri amici animali. Va bene, volentieri. Ok? Buona giornata. Altrettanto, buongiorno e arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.